Mercoledì 29 dicembre 2021 non andranno in onda 1 mattina, oggi è un altro giorno e la vita è in diretta su Rai 1. La rete è stata costretta a fare diversi cambiamenti all'interno della programmazione, proprio per riempire i vuoti lasciati da Monica Giandotti, Serena Bortone e Albert, ma perché le trasmissioni non saranno regolarmente trasmesse. Le festività natalizie non centrano nulla, anche perché non era stato previsto alcuno stop in questi giorni. La loro assenza deriva dallo sciopero dei giornalisti Rai annunciato per la giornata di domani, 29 dicembre 2021. La decisione presa ha ovviamente causato delle ripercussioni sul palinsesto. L'Usigrai ha indetto tale mobilitazione poiché non accetta i tagli effettuati alla terza edizione della TGR e al TG Sportivo della Notte, decisi dall'Ad Carlo Fuortes. L'azienda ha replicato alle accuse. Ha sottolineato che non ci saranno effetti negativi per chi è appassionato di sport, che potranno seguire comunque le varie notizie sulle reti Rai. Inoltre, gli ascolti nella fascia oraria del TG Sportivo della Notte sono bassissi. Il CDR di Rai Sport ritiene però che questa risposta non sia accettabile. Non crediamo che sia nella logica del servizio pubblico valutare solo in termini di ascolti il TG Sport della Notte, primo e unico appuntamento a informare i cittadini sugli eventi sportivi della sera. Inoltre, sempre il CDR di Rai Sport fa presente che i telespettatori non potranno in realtà essere informati attraverso le trasmissioni, come 90 gradi minuto. Questo, perché non vanno in onda durante la settimana? Detto ciò, aggiungono a, infine, non risponde al vero che i telespettatori potranno vedere i servizi sulla serie B a 90 gradi e di esse, per una questione di diritti sportivi. La serie B di calcio la possiamo trasmettere solo nei TG, portando in alto le loro motivazioni. I giornalisti chiedono il ripristino immediato dello spazio informativo, che non dovrebbe essere eliminato senza prima avere un confronto con la rappresentanza sindacale.